Grazie Presidente, cercherò di essere brevissima anche se il tema è molto importante. Le edicole sono di fatto state stracciate dalla Bolkestein e questo grazie anche alla loro peculiarità che non può ricondurle a qualsiasi altro tipo di commercio con occupazione di suolo pubblico. Sono peraltro un settore in enorme crisi, in profonda crisi, però abbiamo il problema che la città di Roma è una città estremamente complicata e che in determinate zone comunque ci sono dei dettami dati anche dal tavolo del decoro per cui bisognerebbe mantenere il decoro ma anche cercare di non vessare ulteriormente questo settore che veramente non ce la fa più in nessun modo. Il discorso è questo, già ci sono stati degli incontri tra l'assessorato e i sindacati. Noi chiediamo proprio che ci sia un tavolo con i sindacati che nel frattempo si possano sospendere le deliberazioni oppure le decisioni assunte relativamente alle edicole in modo da poter fare anche un tavolo con la polizia locale e i municipi per evitare le delocalizzazioni inutili. La problematica è anche questa, le edicole stanno sul nostro territorio, svolgono una funzione importante e sono un punto di riferimento per molti cittadini e però molte di queste edicole sono state posate magari 50-60 anni fa, anche 30-40 e quando sono state messe in opera i proprietari della licenza hanno dovuto anche prendere la proprietà del manufatto, ma anche avere un'edilizia, aspetti che non mi ricordo il nome, hanno dovuto avere un particolare permesso anche in virtù del fatto che costruivano, posevano questo manufatto. Delocalizzarle vorrebbe dire anche mettere in condizione gli eticolanti di sostenere una spesa che è notevole, oltretutto molti di questi manufatti di molti anni fa e anche il solo prenderli per spostarli potrebbe di fatto deteriorarli ulteriormente e renderli in agibili. La cosa più importante è che comunque bisogna anche trovare un modo per rilanciare questo settore che è in crisi, infatti anche questo noi chiediamo e ci sono altre città che stanno trovando delle soluzioni anche coraggiose, pensiamo a Torino dove si riesce a fargli fare i certificati dell'anagrafica, oppure altre città che magari concedono loro determinate particolarità. Una delle cose più importanti è che molte di queste eticole sono state poste in essere e rispettavano il piano del traffico e il PGTU. Cambiando il piano del traffico e cambiando il PGTU risulterebbero da sapere delle anomalie. Quindi noi chiediamo questa interlocuzione con le categorie sindacali, questo tavolo con la pulizia locale e con i municipi per trovare soluzione a queste incongruenze e per disospendere nel frattempo qualsiasi decisione solo per questa categoria che ricordiamo è stata tolta dalla Bolkestein e anche di trovare delle efficaci soluzioni per rilanciarle. Grazie.